L'uscita dal cancellato di partenza, forza Omar, Votier è stato il più reattivo, Omar è il secondo C'è un po' di mischia, è finito in una tenaglia il nostro Omar Vizentin, intanto è Votier che prende il largo Non bisogna lasciare scappare il francese, perché se il francese se ne fa poi è difficile riprenderlo Omar Vizentin però è in grado sempre di effettuare grandi rimonti, in questo momento è terzo Alle spalle di Alex Pullin, ha davanti due mostri sacri, Pullin e Votier Forza Omar, il sottopasso ai danni di Pullin, adesso Omar è in seconda posizione Bene così, va all'attacco di Pierre Votier all'esterno, il contatto tra i due, rimane davanti Votier Non molla per Omar e Vizentin, siamo quasi all'arrivo, è un arrivo al fulm di Codone Vediamo ultimi salti, Vizentin e Votier E vince Vizentin, e vince Vizentin, è tornata la vittoria, doppia tanzurra quest'oggi Che soddisfazione ragazzi, bravi ragazzi Grazie 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 Grazie